Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna in direzione Firenze. Sempre per lavori rallentamenti tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Pisa. Sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale Due Cassi assenso unico alternato al chilometro 103 e 600 nel comune di San Quirico d'Orcia. Sulla statale 398 via Valdicornia all'altezza del chilometro 11 e 500 restringimento di carreggiata. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e il comune di Firenze. Buon viaggio!